Firtual è un sito per l'innovazione sociale, per condividere i processi, per comunicare, anche per condividere l'emozione e i risultati dei processi di cambiamento che oggi il mondo ha molto bisogno. Firtual ci permette di pensare in una forma integrata l'attività fisica e l'attività virtuale. Da qui il nome Firtual, Physical Virtual, una sola parola. Adesso Firtual ha evoluto verso un'idea di educazione per la vita. Questo vuol dire un'educazione a tre livelli che integra conoscenza standardizzata, le competenze per la vita, ma anche i valori fondamentali come la solidarietà, la generosità e altri. Perché noi pensiamo adesso che il cambiamento più radicale per migliorare il mondo richiede una trasformazione di noi stessi. Pertanto l'innovazione sociale diventa un modo esperienziale per imparare, per educarsi, per un'educazione, per la vita. Grazie.